Buonasera a tutti, noi rappresentiamo l'ASCAM, un'associazione musicale di Acqua Sparta che si occupa di musica, di cultura e di solidarietà. Io sono Fabio Liorzini e lui... Maurizio Chiani. Maurizio Chiani e rappresentiamo una parte del comitato direttivo di questa associazione. Come dicevo noi ci occupiamo prevalentemente di musica ma cerchiamo di lanciare dei messaggi e degli spunti di riflessione su alcune tematiche sociali. Il Water Music Fest è giunto alla seconda edizione e anche quest'anno come anche l'anno prossimo cercheremo di trasmettere un messaggio a favore dell'inclusione e a favore della... contro la disparità di genere. Quest'anno abbiamo fatto due serate e la serata conclusiva, quella che si è svolta oggi, ha visto la partecipazione di tanti ragazzi diversamente abili che hanno dimostrato la grandezza che sono capaci di esprimere attraverso la musica. È un evento che intendiamo riproporre anche per il futuro perché sono temi che ci toccano quotidianamente perché ancora la cultura, la società non ha assimilato il valore di questi concetti disparità e inclusività. Ancora non esiste, lo leggiamo sui quotidiani, lo vediamo in televisione, tutti i fenomeni di violenza e di mancata accettazione degli altri e delle diversità. Noi siamo contro tutto questo e cerchiamo di lanciare un messaggio attraverso la forma che c'è più congeniale, quella della musica, della buona musica, della musica d'autore anche, che rappresenti questi temi anche attraverso la partecipazione di altre attività e di altre associazioni come l'Uni3 di Acqua Sparta che ha fatto delle letture e ha lanciato degli spunti di riflessione che consentono di assaporare meglio il valore di queste giornate. Possiamo dire un palco per tutti.